Bentornati su MyFootballGersy. Quella che vedete oggi è la nuova seconda maglia della Germania per la stagione nuova, la 2023-2024, in edizione Player. Grazie a tutti. Meravigliosa! Questa maglia è proprio bella. Assomiglia tanto alla seconda maglia scorsa, cambiano un po' i colori, però è stupenda. Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Il costo, come al solito, lo trovate qui sopra. Che aggiungere? Un costo bassissimo per una qualità ottima e con anche buonissimi tempi di spedizione. Questa è arrivata in 22 giorni. Qui sotto, in descrizione, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Se il video vi è piaciuto, se il canale vi interessa, mi raccomando, lasciate un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.